Ciao a tutti amici e bentrovati sul nostro canale! Oggi abbiamo in mente di preparare insieme a voi dei biscotti al caffè dalla forma molto originale. I biscotti Kiko di caffè sono buonissimi, facili e veloci da preparare. Sono perfetti per uno snack pomeridiano, una pausa caffè oppure per la colazione. Sono friabili e leggeri e il gusto di caffè è davvero intenso e piacevole. Per gli amanti del caffè sono davvero una chicca! Iniziamo! Iniziamo la ricetta mettendo in un mixer 170 grammi di zucchero di canna integrale e lo frulliamo fino ad ottenere una polvere molto fine. In una ciotolina con 15 grammi di caffè solubile versiamo 30 ml di acqua bollente. Mescoliamo con un cucchiaio e mettiamo da parte. In una bulca piente mettiamo 200 grammi di burro morbido e lo sbattiamo con una frusta finché otteniamo una crema omogenea. Aggiungiamo lo zucchero, un pizzico di sale, il semi di vaniglia e mescoliamo finché tutti gli ingredienti saranno amalgamati. Versiamo il composto di caffè e continuiamo a mescolare. Aggiungiamo due tuorli e mescoliamo. In una ciotola mettiamo 300 grammi di farina 00, 70 grammi di maizena e 30 grammi di cacao extra dark. Diamo una bella mescolata e setacciamo il tutto. Amalgamiamo le polveri all'impasto con una marisa. Poi copriamo con pellicola e mettiamo in freezer per 15 minuti. Tiriamo fuori dal freezer l'impasto. Pesiamo dei pezzi da 15 grammi l'uno e diamo una forma pressoché ovale con le nostre mani. Facciamo ciò come tà impasto. L'altra metà la copriamo con pellicola e mettiamo in frigo fino al bisogno. Mentre ai biscotti facciamo un taglietto nel mezzo, con la parte non tagliente di un coltello. Poi mettiamo i biscotti in freezer per 30 minuti. Passati 15 minuti accendiamo il forno a 160 gradi ventilato. Dopo mezz'ora tiriamo fuori dal freezer la teglia e cuociamo per 10-11 minuti a forno preriscaldato. Sforniamo e lasciamo raffreddare completamente sulla teglia. Per rendere i biscotti più realistici a dei chicchi di caffè li spennelliamo con un velo di cioccolato fondente fuso. Facciamo lo stesso procedimento con l'altra metà d'impasto. Guardate che differenza! Guardate che bellissimi biscotti abbiamo creato! Sembrano proprio dei chicchi di caffè! Bene amici, ora siamo arrivati al mio momento preferito, ossia l'assaggio e adesso gustiamo questi deliziosi biscotti al caffè. Puoi vedere il morso del biscotto? Guardate che bellissima consistenza! Cosa posso dirvi? Sono buonissimi! All'esterno hanno una bella crosticina croccante e all'interno sono belli morbidi! Hanno un gusto intenso e piacevole di caffè e la copertura di cioccolato sopra non va a cambiare il gusto del dolcetto ma lo arricchisce e lo rende perfetto! Insomma, sono buonissimi! Assolutamente da provare! Ok amici, il nostro video si conclude qui! Vi piace il nostro canale? Iscrivetevi e lasciateci un bel mi piace! Non costa nulla ma a noi può fare la differenza! Ci vediamo nel prossimo video!